Sì, portiere d'eccezione per la salaria oggi, come mai ti è toccato a te stare in porta? Eh, perché l'altro portiere purtroppo, c'eravamo due di portieri, uno ne è venuto e l'altro c'era lavoro, quindi è toccato almeno inadeguato e incapace a fare il portiere. Però siete rimasti vivi fino all'ultimo, l'altro collega all'altra parte li ha salvati di almeno 4-5 volte. Eh, io l'ho fatti perdere e di là l'ho fatti vincere. Eh, solo tre gol hai preso alla fine. Eh, lo so, però che te li fa? Cioè, a me mi ero mette andando in scala. Tre partite di fronte che le speranze sono ancora vive. Eh, beh, penso di sì. Non lo so, come la classifica non l'ho vista, però c'è stata la possibilità di poter arrivare almeno terzi. Cioè, non ho grandi aspettative, però la squadra nostra non ha giocato male, non abbiamo avuto quasi tutto il possesso palla. Loro hanno avuto solo 4 occasioni, hanno fatto 3 gol, noi in 50 occasioni 2 gol. Vi ha dimostrato un possesso di palla invidiabile, però forse poco efficace. Noi abbiamo una squadra molto forte, quindi io penso che possiamo andare. Il problema è, sai, le occasioni, il calcio tu lo conosci mai di me.